Dieci appartamenti tra Veronetta e Centro Storico per venire incontro agli studenti in vista del nuovo anno accademico. Una soluzione che Fondazione Cari Verona ha messo a disposizione di ESU per affrontare il nodo alloggi. Il presidente Alessandro Mazzucco insieme al direttore Giacomo Marino hanno sottolineato questa mattina in conferenza stampa la volontà della Fondazione di contribuire al sostegno dei giovani, alla valorizzazione del capitale umano e al benessere sociale. La presenza di Fondazione Cari Verona a fianco della formazione superiore degli studenti, come dicevo oggi, fa parte proprio dei tre temi, tre obiettivi programmatici che sono stati approvati per il triennio in corso. L'ESU ci ha rappresentato che a seguito del Covid gli spazi sono ancora più importanti, quindi hanno dovuto rivedere alcuni loro ambienti per distanziare di più le persone. Quindi subito ci siamo trovati d'accordo di dare una mano ai giovani e all'università perché l'alloggi per gli studenti è una delle componenti che viene valutata nella qualità dell'università. E quindi per sviluppare la città, l'università e i giovani ci siamo subito trovati d'accordo di firmare una convenzione che potesse mettere a disposizione a loro, a un prezzo che è calmirato, questi alloggi per gli studenti. Francesca Zivelonghi, presidente di ESU Verona, ha evidenziato come in vista del nuovo anno, nonostante le incertezze causate dall'emergenza sanitaria, siano aumentate le richieste di alloggio da parte degli studenti. Quest'anno, sinceramente, pensavamo di ricevere una richiesta minore. In realtà abbiamo ricevuto ben 608 domande. Noi con le nostre otto residenze riusciamo a rispondere ad un numero di 423 posti. Per cui abbiamo fatto appello in cerca di aiuto e oggi ringraziamo la Fondazione Cari Verona che con la sua disponibilità, attraverso una convenzione che è istituito con noi, mette a disposizione 10 unità immobiliari per un totale di circa 17 posti letto e dislocate a Santa Toscana e in via libera.